Ho detto bene, giornalista, insomma, ho detto sei molto conosciuta perché io, anche se vivo a Roma, però, diciamo, già conoscevo il tuo nome e già i tuoi lavori. Vogliamo riassumere brevemente dove scrivi qualcosa di, diciamo, di particolarmente, cui tieni particolarmente, che hai scritto, che hai realizzato. La mia vita ha due percorsi paralleli, uno che è fatto di arte, di attenzione appunto a quello che è la musica, la scrittura, le poesie, e un altro che è un percorso politico. Del politico non vi parlerò perché è una questione abbastanza complicata per le donne, tanto è vero che abbiamo da anni fondato due associazioni per le pari opportunità, ma questa appunto è la zona della mia vita che tengo a lato di questa iniziativa di oggi. Sono qui come giuria, mi fa piacere partecipare, amo molto la canzone napoletana e spero che questo sia il primo anno di tanti anni futuri di festival della canzone napoletana. Quindi vi ringrazio e vi saluto.